e ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video io sono roid e oggi vedremo lo scudo leggendario void drift se non sapete dove trovarlo questo scudo potrete ottenerlo solo dallo studioso potenziato cioè il primo boss del dlc 2 di borderlands 3 se non avete dlc non potrete ottenerlo se non sapete dove trovare lo studioso potenziato come combatterlo ed è un brutto combattimento perché è lungo difficile ed è molto lungo da farmare vi lascio la mia guida qua sotto con almeno gli accorgimenti per finirlo il più velocemente possibile detto ciò vediamo quindi quello che ho ottenuto dalla mia farm void drift capacità 24 268 ed è abbastanza poca ritardo di ricarica 3.1 velocità di ricarica 4600 impalatore buco nero e nuova occhio a quello che ne esce spara spuntoni a ricerca gli aggressori quando subisce danno da proiettile la consagrazione non ci interessa sembrerebbe uno scudo molto blando ma se fate caso alle tre stati che vi ho letto impalatore buco nero nuova capirete dove vado a parare innanzitutto ogni volta che verrete colpiti da dei proietti disparerete degli spuntoni a ricerca che andranno a fare danno ghiaccio a tutti i nemici su cui colpiscono inoltre quando vi si romperà lo scudo verrà applicato l'effetto buco nero quindi si creerà una singolarità nella vostra posizione attirerete tutti i nemici a voi infine c'è anche la nuova quindi dopo aver attirato i nemici lo scudo esploderà facendo tanto danno a tutti i nemici che ha attirato sulla carta sembra un'ottima combo a parte la bassa capacità del void drift ma andiamo effettivamente a vedere su atenas se i danni di questo scudo sono sufficienti ed eccoci arrivati la mia build non c'entra nulla con lo scudo quindi potremo effettivamente vedere il suo potenziale andiamo quindi in mezzo ai nemici e proviamo a farci colpire gli spuntoni di graccio sembra facciano molto danno vedete che sto praticamente ammazzando questo commando senza neanche toccarlo forse le hai che decide un po in che direzione deve andare è un po me probabilmente vanno verso il nemico che vi ha colpiti ma non so quanto possa effettivamente essere efficace vedete che comunque i danni ci sono i nemici vengono uccisi sia dall'esplosione sia dagli spuntoni questo è uno scudo che devo dire mi ha personalmente sorpreso perché non mi aspettavo tutto questo danno eppure eccolo qua quindi io ve lo consiglio assolutamente se avete dlc perché vedete che vi permetterà praticamente di uccidere un commando duro completamente direi assolutamente approvato confermato e inizierà a fare parte della mia build detto ciò per questo video è tutto spero vi sia piaciuto e vi sia interessato in questo caso vi chiedo di lasciare un like e di iscrivervi nel caso non lo siete ancora per supportare questo canale e aiutarmi a fare tanti nuovi video detto ciò vi ricordo che il come darò in descrizione per questo video è tutto da roid è tutto grazie a tutti